Trani, omicidio di Antonio Mastrodonato. Salgono a quattro i fermi. Un controllo più capillare del traffico di droga sul territorio di Trani sarebbe il vero motivo dietro la morte di Antonio Mastrodonato, ucciso con cinque colpi di arma da fuoco a Trani il 12 febbraio scorso. Le indagini hanno portato al fermo di indiziato di delitto emesso dalla locale procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di quattro soggetti ritenuti responsabili a vario titolo dell'omicidio. Alessandro Brescia ha intercettato all'aeroporto di Bari mentre rientrava dal Belgio, Alessandro Corda, Duda Albi e Giulio Vitolano. Le indagini, che hanno visto una stretta collaborazione tra carabinieri e polizie di Stato, hanno evidenziato che il giorno prima dell'omicidio, nelle vicinanze di una sala giochi di Via Superga, si era verificato un'animata discussione tra la vittima, alcuni suoi amici e altri soggetti poi degenerata. I fermati il giorno successivo hanno cercato ripetutamente la vittima nel suo quartiere, trovandolo solo nel primo pomeriggio. Un conflitto a fuoco pericoloso, soprattutto perché è svoltosi in pieno giorno, mentre una donna portava in giro il proprio bambino nel passeggino, come è emerso dalle immagini delle telecamere di sicurezza. Di seguito i fatti spiegati dal sostituto procuratore di Bari, Giuseppe Maralfa. C'è stato intorno alle 16.45, poco prima, 16.42-16.43, un primo conflitto a fuoco sotto i portici di Via Superga, angolo Via Parini, che hanno visto fronteggiarsi, da un lato Vitolano Giulio, arrivato di improvviso, lì portato in macchina da Alessandro Corda, la macchina guidata da Duda Albi, e dall'altro lato, appunto in conflitto a fuoco, Brescia, Alessandro e il Mastronato. Questo primo conflitto a fuoco non ha avuto nessun esito, nel senso che si sono affrontati Brescia e Vitolano, poi il Vitolano ha proseguito la sua corsa all'inseguimento del Mastronato, che si è svolto fra i portici di Via Superga e il luogo in cui poi è stato trovato cadavere. Il Vitolano è stato inseguito per strada e è stato attinto da almeno 5 colpi di arma da fuoco calibro 9 per vettura. Il dato interessante è che mentre il Vitolano inseguiva il Mastronato in fuga, lo ha fatto per circa 50-60 metri, appunto la distanza che separa i portici dal luogo in cui è stato trovato cadavere, a sua volta il Vitolano è inseguito dal Brescia, che arma in pugno, una volta che il Mastronato è stato atterrato, ha tentato a sua volta di uccidere il Vitolano, ma l'arma si è inceppata. Le accuse sono di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione di arma clandestina aggravati dal metodo mafioso, di cui all'articolo 7 della legge 203-91, e dall'essere soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale. Grazie a tutti.